salve a tutti ragazzi salve a tutti ragazzi si ritorna sul tubo bellissimo questo inno qua bellissimo 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 è davvero bellissimo l'ino del toro stupendo parliamo di torino milan torino milan torino milan 0 a 2 torino milan 0 a 2 assegnato assegnato velotti su rigore e berengola berengola come si chiama allora vediamo come si chiama vediamo come si chiama ebbene si velotti su rigore e berenguer berenguer bellissimo gol su cazzata enorme di musacchio berenguer se così correggetemi se mi sbaglio sono andato su google a vedere il nome del calciatore berenguer prende la palla al volo donnarumma non può farci niente e fa un grandissimo gol un grandissimo uno strepitoso gol torino batte milan 2 a 0 e va pari punti con milan e atalante sono tutte e due al quinto posto con una roma al quarto posto e noi noi fermi lì al terzo posto questi pareggi che a me fanno paura ma parliamo di torino milan allora un milan che vabbè la scelta di gattuso di lanciare il cutrone titolare e mettere piante chi in panchina un cutrone che io il fantacalcio un cutrone che io ho al fantacalcio e che ho detto finalmente non gioca pionte chi gioca cutrone e dico magari cutrone me la mette me la mette dentro nada 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 e invece 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 vabbè niente invece il milan ha risposto con due colpi di testa di baccaiocco uno una traversa che veniva si entrava in un gol simile a quello del derby e un altro su papera di siri su papera su parata di siri correggetemi se mi sbaglio su parata di siri con l'altra allora cosa posso dire ansaldi ansaldi mi è piaciuto corre 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 non sembrava neanche il nostro ansaldi di quello che avevamo noi sembrava lontano parente neanche dell'ansaldi che era con noi un torino che gioca la partita un milan che vabbè soffre il torino che si soffre il torino che si chiude bene un donna roma che non mi è piaciuto per niente un donna roma che sui cross del toro non prendeva neanche le palle e niente vabbè rigore rigore di belotti trasformato e poi dopo invece bellissimo col di berengur mi sembra berengur correggetemi se mi sbaglio bene sono contentissimo per il torino io spero che il quarto posto vada o al torino all'atalanta sarei contentissimo però vabbè più magari di mettere la firma per la da sportivo mettere la firma per la coppa italia all'atalanta e per la per il quarto posto alla torino farei la firma poi da interista spero che l'inter arriva terza però io il terzo posto è tutto tranne in cassaforte per noi perché veramente noi con sti parigini qua ma con sti parigini qua posso capire che ti mancano quattro giornate ma con sti parigini qua sono sono rischiosi sono rischiosissimi questi parigini però vabbè il toro adesso è quarta pari punti con milan e l'atalanta sono contentissimo spero spero questo spero questo e il milan e le romane in europa league io spero che accada questo inter terza torino quarta ma magari ma magari voglio firmare adesso firmo adesso dov'è che devo firmare dov'è che devo firmare da che devo firmare ma che devo firmare firmo ho firmato basta ci ho messo la firma ci ho messo la firma torino quarta inter terza magari sarei contento poi va bene importante che vabbè fin dalla fiera l'importante che andiamo in champion poi se ho terzo quarto posto preferirei terzo posto anche se io non blindo il terzo posto perché è tutto tranne che blindato il nostro il nostro terzo posto perché la matematica non è un'opinione e la matematica ancora la matematica ancora non ci è venuto a trovare la matematica e quindi il terzo posto è ancora aperto quindi ragazzi questo questo ragazzi massima attenzione comunque grande toro grandissimo toro torino e granata torino e granata affanculo i bianconeri la juve non è di torino la juve non è di nessuno vai a fare in culo la juve anche se ha vinto il campionato anche se ieri non ci ha fatto vincere però affanculo la juve torino e solo granata e voglio il torino in champions 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 facciamo partire l'hasthag voglio il torino in champions dai 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 facciamo partire l'hasthag la facciamo partire quest'hasthag dai 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 sto scherzando quello comunque bel risultato del toro grande toro e niente il Milan del Milan che devo dire il Milan Cattuso ha messo Piontek ha buttato nella mischia Piontek dopo del Milan del Milan quello che è un buon giocatore ma non è che non cioè si è forte quello ma ma nel Milan cioè nel Milan di certo nel Milan se vuoi vincere qualcosa devi avere giocatori da Milan e con tutto rispetto Suso è un ottimo giocatore ma non è da Milan perché il Milan tu ti aspetti uno stesso allenatore Gattuso a centrocampo Pirlo a centrocampo lui costa cacca ma se vogliamo tornare indietro Van Basten Gullit questa gente qua adesso che che deve fare cioè che è un giocatore da Milan non so anche Borini si impegna un giocatore da Milan ma non è un giocatore da Milan la pacchetta cioè questi qua non sono giocatori da Milan quindi Milan che deve fare? che deve fare il Milan? è questo il Milan si può prendere ancora questo quarto posto però noi al derby li abbiamo proprio tagliato le gambe perché loro erano arrivati rilassati erano entrati rilassati al derby noi li abbiamo tagliato le gambe e da lì il Milan non si è più ripresa quindi adesso la lotta alla Champions è apertissima come l'anno scorso la lotta della Champions è apertissima io spero che queste squadre non si avvicinano al terzo posto perché io voglio il terzo posto e spero questo e spero spero un quarto posto in una sorpresa come Atalanta e Torino un quarto posto poi vabbè se dobbiamo arrivare noi per forza al quarto posto perché ci suicidiamo perché se arriviamo quarti o addirittura voglio esagerare quinti dico una bestemmia quinti vuol dire che ci siamo suicidati perché veramente dai veramente no 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 però bene ragazzi comunque grande Toro forza forza vecchio cuore Granata spero con tutto il cuore che il Torino vada in Champions voglio il Torino quarto ma ci vuole un miracolo perché purtroppo le Romane sono più attrezzate anche oggi la Lazio ha vinto se non sbaglio ha vinto 2 a 1 con la Sampdoria che mi sembra che la Sampdoria è fuori anche dall'Europa League dalla corsa Europa League mi sembra se non erro e quindi c'è la Lazio che è più attrezzata il Toro è meno attrezzato di Lazio Roma e Milan ma mettiamoci anche noi mettiamoci anche noi perché noi ci suicidiamo e siamo nel piena lotta cosa c'è anche adesso addirittura andiamo a prendere il Napoli sì prendere il Napoli anche oggi vabbè vinto partita inutile Frosinone vinto dal Napoli che ormai c'è il secondo posto diciamo blindato noi ne siamo lì dietro ma che cazzo vuoi salire che cazzo vuoi salire che cazzo vuoi vabbè va a fuffa fanculo va quello comunque dai un'ora al Toro un'ora a Mazzari che con noi con noi non abbiamo vari corti di Mazzari però vabbè con i vari Kuzmanovic e poi chi cazzo c'era ancora vabbè guardi no però i vari Kuzmanovic Nagatomo i vari Alvaro Pereira quella gente là Mazzari ci ha portato in Europa League che avevamo una squadra di cadaveri con con bel Fodil quella gente lì Mazzari ci ha portato in Europa League quindi Mazzari un pirla non è e magari io se riesci a fare questo miracolo con il Toro stanno anche facendo vedere gli highlights se vediamo se riesci a fare questo miracolo col Toro o non è a Mazzari comunque ragazzi un saluto a tutti ci ritroveremo qua sul tubo la prossima volta parliamo un po' di noi parliamo un po' di e vi saluto cosa vi devo dire vi saluto ciao 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 ciao